Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati, che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. L'azienda è leader mondiale nella produzione di circuiti stampati ed usa macchinari di ultima generazione, per garantire un elevato standard di qualità. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Basta fare l'upload dei Faggerber sul sito, specificare i dettagli costruttivi e le quantità e attendere. In questo periodo potrete ricevere PCB di ogni colore a 2 dollari ed uno sconto di 20 dollari sulle spese di spedizione del primo ordine. Ciao a tutti, siamo carichi, ho mezzo laboratorio sulle spalle, quindi stiamo per entrare nell'ingresso nord, c'è molta gente, vediamo cosa succede. Aspetto qui il nostro contatto cinese di JLCPCB. Si è conclusa da poco la Maker Faire 2019 a Roma, un grande evento, sono ancora molto carico per l'evento. Volevo ringraziare tutti quelli che sono passati allo stand a salutarmi, è stato veramente un grandissimo piacere conoscervi di persona. In particolare Fabrizio, Antonio, Goffredo, Francesco e tanti altri, vi ringrazio veramente tutti, io ho ancora il mio pass bello fresco, allo stand di JLCPCB se ne sono viste delle belle e quindi immagino che fra qualche giorno uscirà anche il video di Daniele Tartaglia, infatti eravamo lì fra Atilab, Daniele, Naomi e anche Ufo Stufo, tutti in balotta a festeggiare. Grazie veramente a tutti è stata un'esperienza molto molto bella, per me in particolare perché ho avuto modo proprio di conoscervi di persona e insieme abbiamo potuto discutere di elettronica. Ringrazio ovviamente anche il nostro sponsor JLCPCB che ci dà l'opportunità di utilizzare dei coupon per ottenere sconti sui PCB, quindi il piccolo tagliandino che avete preso alla Maker Faire, usatelo con il codice e avrete uno sconto immediato. E poi un'altra cosa importante, io avevo sfidato le tempistiche di JLCPCB, cioè sette giorni prima, esattamente sette giorni prima della fiera, avevo rilasciato i file gerber del righello e li avevo fatti arrivare direttamente in fiera come indirizzo di spedizione. Ragazzi ce l'hanno fatta, i righelli sono arrivati, in fiera praticamente sono andati via tutti, per cui il video di questa sera riprende la parte 1 di progettazione del righello nel dettaglio e andrà a analizzare la qualità del risultato. Buona visione! Bene, riprendiamo con il righello cominciando dalle parti grafiche, che erano quelle che lasciavano un pochino più dubbi. Qua ad esempio è il video 511, che è la puntata 1, vedete che avevo importato un'immagine jpeg della bobina di tesla direttamente sullo strato top, però se andiamo a guardare bene vedete che ci sono delle spaziature e delle distanze veramente troppo piccole, che da un punto di vista tecnologico non potranno essere sicuramente realizzate. JLCPCB infatti ha delle regole che sono sotto il capitolo capabilities del sito, dove vengono specificate tutte le constraint tecnologiche che devono essere mantenute, ad esempio il numero di strati può essere compreso fra 1 e 6, qua abbiamo la parte di impedenza controllata con un foglio di calcolo che ci permette di utilizzarla, il materiale è solo FR4, le dimensioni massime del PCB sono 400x500, tenetelo presente questo anche per i pannelli, che se li fate dovete stare dentro questa area massima, andiamo direttamente a quello che ci interessa, cioè la min trace, come vedete la traccia più piccola in rame è di 3.5000, ecco che quindi se andiamo nel nostro disegno della bobina non possiamo fare tracce più piccole, per questo motivo per disegnarla bene, che cosa ho fatto? Sono partito dal logo con il quale poi ho realizzato anche altre cose come biglietti da visita, tazze, magliette e via dicendo, in particolare questo è quello che avevo preso come importazione grafica, ma per renderlo importabile l'ho semplificato, quindi l'ho passato in bianco e nero, quindi solo due colori e soprattutto ho reso spesse tutte le parti in rilievo che saranno in rame. In questa maniera, una volta importato dentro Isida, questa immagine sarà realizzata bene con il rame. Importando questo tipo di immagine, se andiamo a guardare bene nel dettaglio, vedete che il livello di rame è sufficiente per essere realizzato senza grossi problemi. In particolare, qua ho impostato una grid a 5000, vedete che la pista più piccolina ha comunque 10.000, che è tranquillamente visibile e avrà anche una resa buona. Dopo la vedremo col microscopio come è venuta, ma vi assicuro da un punto di vista grafico viene bene. Quindi per questa parte grafica fate attenzione quando importate delle immagini a verificare che la larghezza minima sia rispettata. Veniamo ora al discorso serigrafia e quindi il layer chiamato top silk layer per la parte top e bottoms in layer per la parte saldature. Anche questo deve seguire delle regole, sempre nel foglio capabilities. Vedete che le scritte devono avere una larghezza minima di 6.000 e un'altezza minima di 32.000. Queste vengono consigliate sia per la parte realizzativa, ma anche per la parte, diciamo, di leggibilità. Infatti, diciamo, delle scritte con dimensioni inferiori sarebbero praticamente illegibili. Nei riquadri del mio righello voglio inserire delle formule pratiche che possono essere utili, come ad esempio la serie di resistenza e il parallelo. Solo che la resa grafica di questi simboli non mi piaceva per niente, per cui questa era un'immagine importata, per renderla visibile e anche, diciamo, bella da poter vedere, ho ricreato il simbolo della resistenza andando a fare pista per pista e poi con copia e incolla dopo le ho riposizionate. Quindi andiamo a vedere com'è venuto. Questo è il risultato finale. Se ci guardate, questa è proprio una pista fatta con il top layer, sempre rispettando la larghezza minima imposta dalle capabilities. Il collegamento, invece, l'ho fatto in strato silk layer. Quindi il righello avrà questa parte di copper esposto, quindi si vedrà il rame in finitura, e questa parte in serigrafia, per far vedere il collegamento delle resistenze serie e parallelo, come viene. Poi ho inserito anche due formulette molto comode, la legge di Ohm e la potenza dissipata su un resistore. Ho voluto creare anche un riquadro reattivo, quindi con le formule fondamentali per condensatore e induttore, quindi le relazioni che legano correnti e tensioni tramite gli elementi reattivi, e qui per ricordare la curva di risonanza di un filtro LC, dove si vede la frequenza F0 di risonanza come data rispetto ai componenti LC. La riga meno 3 dB mi sta a identificare la banda delta F, quindi per convenzione si decide sempre la frequenza a meno 3 dB, e di conseguenza il fattore di merito Q, calcolato come la frequenza F0 di centro banda diviso il delta F. Ecco, in particolare su questi componenti, anche qua sono grafici. Allora, sembrano effettivamente carini, però la larghezza della pista, ragazzi, è troppo sottile. Quindi anche in questo caso ho rifatto la pista in rame, utilizzando lo strumento arco. Quindi dal tool arco ho fatto dei mezzi archi, ho fatto il copio e incolla. Il risultato finale per l'induttanza, a vederlo così sembra diciamo meno bello da vedere, ma vi assicuro che in rame è una bellissima resa, lo vedremo dopo, e vedete che qua comunque lo spessore delle piste è assolutamente compatibile con le regole di realizzazione. Sempre nella parte frontale del righello ho inserito i codici colori per le resistenze, mi sembrava una cosa carina e utile. Le bandine della resistenza le ho volute fare in rame scoperto, sempre. Quindi per un resistore a 5 bande ho riportato qua i classici valori legati ai colori. Quindi abbiamo sia le prime tre cifre, che il moltiplicatore, che la tolleranza. Per i condensatori ho scelto questa, che è la rappresentazione dei condensatori ceramici in particolare, per andare a capire appunto il valore, la tensione e la tolleranza dalle sigle. Quindi le prime due letterine indicano la tensione di lavoro, il numero centrale è il valore di capacità, e qua ho dato un esempio con 104 come si calcola, e infine la lettera finale sulla tolleranza sempre del condensatore. Sempre nella parte frontale del righello, in estrema destra, c'è tutta la parte SMD. Quindi ho inserito i package più comuni dei resistori, in questo caso. Poi per gli integrati ho messo i SOP, i SOT, il DPAC che è abbastanza grande ed è carino perché si vede un bel po' di rame sul righello. I DIOD, quindi SMA, SMB e SMC per i DIOD 214. Ho inserito poi un QFP32 per dare un'idea delle pad, diciamo così ravvicinate a basso pitch per questo tipo di package, e poi sempre per il pitch ho messo le distanze, diciamo più comuni, in millimetri, da questa parte sono indicate, e vedete come le pad sono distanziate. Qua abbiamo invece la larghezza delle piste espressa nella colonna millimetri e mils, così avete anche un bel equivalente comodo, quindi quando diciamo un millimetro parliamo di 40 mils, vedete che è immediato, e soprattutto avete subito idea di quanto è larga la pista. Ecco, per realizzarlo è stato molto comodo perché 40 mils sono andato in griglia e pronto. A destra abbiamo infine dei package PTH, ho scelto quelli che a me sono più diciamo comodi, perché li uso spesso per i nostri MOSFET, i GBT e altri componenti, e qui alla fine poi ci sono tutte le parti dei fori. Per vedere i fori abilitiamo layer, multi layer e top solder mask, ecco così potete vedere questi fori. Ecco, diciamo che questi sono veramente piccoli, perché 30 mils, dopo lo vedremo nel righello, praticamente è quasi invisibile. Però mi sembrava comodo averli tutti in scala, così vicino. Qua ho fatto un insulation slot, quindi un punto in cui non c'è vetronite, e questa è la parte destra del nostro righello. Vediamo ora la parte posteriore, quindi spegniamo tutti i layer di tipo top, accendiamo tutti i layer di tipo bottom, quindi vediamo il nostro circuito stampato al contrario, e vediamo che riquadri sono andato a mettere in questo righello. Cominciando da destra verso sinistra, visto che qua siamo al contrario, ho messo il logo di JLCPCB con il loro slogan, ecco che vedete qua ho tutti i fori dall'altra parte. Questo è importante perché avere dei fori ovviamente mette dei vincoli su quello che ci si può mettere. Quindi da questa parte, sull'estrema destra, vedete che avremo solo la parte posteriore dei fori. Poi ho riportato la tabellina di capabilities di JLCPCB con le regole, quindi la minima larghezza per le piste, la minima spaziatura, le clearance, le drill, quindi tutte le regole, ecco qua ovviamente scusate sono al contrario perché siamo in serigrafia lato bottom, e per esempio per quello che riguarda la via a larghezza minima, vedete, l'ho anche posizionata, parliamo di 0.2 mm e quindi l'avremo fisicamente sul righello. Quindi sul righello avrete sia le regole e poi l'esempietto realizzato proprio lì accanto. Continuando sempre con i riquadri, ho inserito un riquadro che richiama come si calcola la resistenza di un filo di rame in particolare. Quindi è rappresentato uno spezzone di area A e lunghezza L, resistenza uguale, resistività per L diviso A, ho riportato la resistività del rame e una tabellina che ci fa vedere rispetto allo spessore del rame e allo sheet resistance, quindi la parte di circuito stampato. Continuando con i riquadri, ho inserito qua un riquadro che richiama il calcolo della resistenza di un conduttore di rame. Quindi è schematizzato un piccolo filo di area A e lunghezza L, resistenza uguale resistività per lunghezza del conduttore diviso area. Ho riportato il valore della resistività del rame e qui sotto ho messo una piccola tabellina che riguarda invece i circuiti stampati. Cioè in pratica viene data, scusate che al contrario, ma comunque viene data la resistenza del foglio, diciamo di rame, una volta che è stato stabilito il peso del rame per il deposito sul PCB e anche lo spessore. Quindi con questa tabellina si riesce a ottenere questo valore. E proprio qui accanto il riquadro che ci dice come calcolare la resistenza di una pista sul circuito stampato con la formula che esprime la resistenza di foglio di rame equivalente in millio su square, questa qua della tabellina, moltiplicata per il numero di quadrati. Infatti la tecnica è quella di suddividere una pista del circuito stampato in quadrati equivalenti, contarne il numero e si moltiplica per questo coefficiente. Veniamo poi, sempre sul retro del righello, alla parte che riguarda il taglio pump. Ho messo le configurazioni principali, quindi cominciando da quella non invertente. Per ogni riquadro è indicato lo schemetto, che poi viene realizzato in rame esposto, con i simboli V in e V out e le resistenze, e le relative formule. E poi anche il valore della impedenza di ingresso e impedenza di uscita. Quindi abbiamo il non invertente, l'invertente, poi abbiamo l'integratore e il derivatore. E quindi la tensione di uscita è sempre espressa come funzione della tensione di ingresso, secondo, diciamo, l'integrale e la derivata con i valori, diciamo, RC che sono stati messi qua nello schema. Il disegno dello pump è in grafica. Vedete che quando è stato importato, ovviamente ci sono dei tratti in cui, vedete qua per esempio, la traccia originale era quadrata, qua è stata approssimata con una curva, ma ho valutato che la traccia del, diciamo, in rame è di larghezza sufficiente per una resa, diciamo, buona, perché il problema è poi se si riesce a vedere. Ecco, tutti questi disegni ovviamente li ho ricostruiti in grafica e li ho portati dentro, quindi per esempio per gli opamp ho creato delle immagini che fossero il più pulito possibile e poi le ho importate con questa tecnica. Quindi è stato importante avere degli spessori grossi per poter avere una buona resa sul righello. Veniamo infine alle ultime due tabelline sul rato retro del nostro righello. C'è la classica tabellina di conversioni in db. Ecco, questa inizialmente era un'immagine e invece l'ho dovuta riscrivere tutta a mano. Sia le righe che i font sono in silk layer bottom, quindi verranno, diciamo, appariranno come una serigrafia, ma ho dovuto rifarli scrivendoli uno a uno per essere sicuro, poiché il font sia leggibile, perché comunque è molto piccolo. Qua parliamo di un 32.000 come, diciamo, altezza del carattere, che è la minima ammessa da JLCPCB. Tra l'altro per me questo era un esperimento per vedere come JLCPCB è in grado di realizzare delle scritte piccole. L'ultimo riquadro sono le costanti fisiche, diciamo, famose e, diciamo, più interessanti come la velocità della luce, la permittività, la permeabilità, sempre riferita al vuoto, quindi E0, Mu0, costante di Planck, costante di Boltzmann, costante di Faraday. Quindi sei costanti molto interessanti. Infine, sul lato in piccolino abbiamo sempre la scritta del ruler con l'anno e la revisione. Prima di mandare in produzione il righello ho voluto creare dei piani di massa, quindi sia lato top che lato solder. Ho utilizzato il tool per la creazione di piani che è la solid region e ho creato questi due rettangoli per fare in modo che tutto il righello sia assolutamente, diciamo, riempito con dei piani di massa. Quindi messo, sovrapposto, preciso alla nostra board outline, i due piani di massa praticamente diventano, aspettate che tolgo questo così vediamo, diventano un elemento che farà apparire il righello più bello, perché avremo il copper esposto e tra l'altro avrà anche un bel peso e se accendo tutti i nostri layer, questo è come appare il righello in preview con i piani di massa. Ecco, notate che i piani di massa vengono fatti vedere dal nostro visualizzatore. Se io faccio una foto immediata, vedete che con i piani il blu è diventato un pochino più chiaro e guardate anche la tinta del copper esposto. Per farvi un paragone, se adesso io questi piani di massa, per dire, li sposto in una maniera così arbitraria e rifaccio la foto, vedete che le tinte di blu sono diverse. Vedete? Qua ho blu scuro dove non ho il piano di massa, blu chiaro dove c'è il piano di massa. Andiamo ora a vedere come è venuta la resa del 3D, per cui questa è la preview che il nostro tool ci fa vedere. Sembra essere, diciamo, carina. Adesso proviamo a girarla e vediamo anche il lato bottom. Eccolo qua. A vederla così, sembra essere, diciamo, con una buona resa. Vediamo anche la parte di fuori. Sono piccolini. Perfetto. Adesso andremo a vedere i righelli reali, per cui cercherò di avere delle immagini ingrandite, per vedere se effettivamente siamo riusciti ad avere una buona resa, così come mostrato dalla preview. Siccome di questi righelli ne volevo fare tanti, ho fatto realizzare 5 prototipi, così per vedere la resa, in versione circuito stampato verde, quindi un po', diciamo, bruttino, e soprattutto con la finitura ASL, quindi a stagno, e quindi non quella dorata. Però volevo rendermi conto se il lavoro fatto con le piste e la grafica veniva bene. Ora, qua l'immagine un po' sgranata, però su questi prototipi vedete che la resa è buona. Qua mi sono accorto che ero stato troppo basso con, diciamo, il lato sotto, quindi ho aumentato un po' lo spessore, però, diciamo, sia la scala graduata che le scritte sembrano essere assolutamente leggibili, soddisfacenti. Quindi, questo era un altro esempio, sempre della parte, diciamo, della front, vedete come sono venute le parti SMD. Poi la parte dietro, ecco, era quella che mi lasciava un po' più di dubbi, però anche la parte degli op-amp, che era quella più piccolina, mi sembra venuta bene. Quindi, fatti questi primi prototipi, ho lanciato in produzione con delle quantità importanti, perché poi sono quelle della fiera, diciamo, un centinaio di pezzi e anche qualcosa di più, e direttamente con i trattamenti finali. Vediamo ora come piazzare quest'ordine e le caratteristiche di questo righello. Quindi, come prima cosa, andiamo a prendere i file gerber del nostro righello, che è la cartellina zip. Lasciamo due layer, le dimensioni verranno specificate una volta che il gerber file sarà stato caricato. Quantità, allora, quantità 5, però in realtà io li farò in pannello. Andiamo a scegliere lo spessore 2, perché voglio un righello bello robusto. Facciamo ad esempio il rosso. Vedete che se metto rosso lo spessore è tornato a 1,6, perché a seconda del colore non tutti i colori riescono ad avere questo spessore. Il nero, se ricordo bene, esatto, il nero mantiene il 2. Questo è importantissimo. La finitura finale, come dicevamo, non deve essere Hasl, ma l'ho messa Enig. In questa maniera avremo l'effetto gold. Poi il peso, io qua ho lasciato un odds, ok. Altre cose importanti, ecco, la panelization. Per avere i reghelli, diciamo, in pannello, facciamo fare il pannello a JLCPCB e gli diciamo quanti ne vogliamo. Quindi, io ho scelto un righello in X e 5 in Y. Quindi avremo dei pannelli che saranno, scusate, il contrario, 5 e 1. Perfetto, perché poi calcola la dimensione del pannello come 5 per 31 mm, 150, e quindi soddisfa le regole di realizzazione. Quindi avremo 150 in X, quindi di larghezza, e 207 in Y. E questo sarà il nostro pannello. Dopodiché, qua se abbiamo delle note le possiamo mettere, non abbiamo montaggio SMD e stencil, per cui siamo pronti per fare l'ordine. Save to cart, e come al solito si procede con l'indirizzo di spedizione e il pagamento e la merce parte subito. Ecco i righelli che mi sono rimasti dalla Maker Faire. Tutti gli altri sono andati via. Quindi prendiamo ad esempio questo, che era un pannello da 5 originale. Qua ce ne sono rimasti 4. Ne stacchiamo uno, quindi andiamo ad agire sul V-cut con delicatezza. Ecco. Il V-cut è venuto molto bene, per cui diciamo il lato duro del righello dove si può appoggiare la penna per tirare una riga è comunque netto e non ha sporcizia. Questo era uno dei dubbi che avevo sul taglio e poi vedete che i dettagli sono realizzati veramente bene. In particolare possiamo guardare come il rame esposto col trattamento Enig si è venuto bene. Le scritte sono piccole come previsto, ma sono assolutamente leggibili. Anche la parte di rame, sia per la grafica che per la risoluzione, è del tutto accettabile. E quindi vedete che aver seguito le regole in maniera attenta ha portato a un buon risultato. Questa è l'induttanza, se vi ricordate, il simbolo che avevamo visto prima al CAD è stato realizzato proprio bene. Qua abbiamo tutta la parte delle shape SMD e infine la parte con le forature. Come vi anticipavo, il foro più piccolino è veramente quasi invisibile. Lo si vede solo esatto in contrasto. La parte posteriore ha la zona con i fori dietro, il logo di JLCPCB e tutti gli elementi che abbiamo visto prima. Ecco qua abbiamo la parte degli O-Pump. È venuta molto fine, però diciamo è ancora leggibile, specialmente nelle formule. Direi che siamo soddisfatti del risultato. la versione in nero dove il contrasto è superiore, ecco, forse è molto più leggibile. Infatti bianco su nero diciamo non ci dà problemi. Effettivamente rispetto al rosso è molto più leggibile. poi è anche carino, secondo me, l'effetto del, diciamo, del rame tipo gold su sfondo nero. vediamo il giallo. Questo è un po' più simpatico, diciamo così, con la luce. È chiaro che se la luce, diciamo, è diretta, il contrasto è inferiore. Però comunque la leggibilità, diciamo, c'è tutta. La qualità, comunque, degli stampati, come al solito, è ottima. Vedete come è tutto realizzato in maniera precisissima. Bene, e con questo termina il video su il tutorial Isida, la realizzazione del nostro righello della Maker Faire. Come sempre, se il video vi è piaciuto o vi è stato utile, un bel pollice in su. Io vi saluto. Ciao e alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.